Buon viaggio, ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart, Mauro Ciuttini in studio. Sulla 1 tra la variante di Valico e Calenzano c'è un veicolo in avaria in direzione Firenze. Un veicolo fermo sulla 1 ancora tra Monte San Savino e Val di Chiana in direzione di Roma. Rallentamenti sulla 12 per un veicolo fermo alla barriera di Rosignano in direzione Rosignano Sud. Lavori a Firenze per la tramvia, si allarga il cantiere in Pianza della Libertà per i veicoli provenienti da Viale Matteotti. Sarà mantenuta la circolazione verso Viale Lavagnini, scatta invece la chiusura del collegamento con Viale Don Minzoni. Per chi viaggia in Toscana domani, Lamma prevede cielo sereno, poco nuvoloso, nubi pomeridiane sull'appennino tosco-emiliano dove non si escludono isolati rovesci. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Grazie a tutti.